allora salve amici oggi vi parlo di penne a sfera penna gel roller quindi mettetevi l'anima in pace per chi ama le sinografiche ci potrebbe essere una sorpresa comunque andiamo a vedere mi scrive giuseppe seguo da poco questo canale insieme a qualche altro che parla spesso di penne essendone abbastanza appassionato anch'io ho letto recensioni di siti americani che considerano la unibolge stream in assoluto una delle migliori penne se non la migliore penna in commercio da un po di tempo ho però scoperto le penne a sfera del marchio schneider le ho trovate di grande scorrevolezza e ben costruite particolare ho acquistato tempo fa il modello slider edge e recentemente il più costoso slider edge mi piacerebbe un video in cui venissero messi a confronto la uni jet stream e la schneider slider edge grazie e saluti giuseppe io mi domando vabbè voglio bene a tutti però ma perché non ci aiuti e la compri te e le metti visto che hai già le altre due schneider io ne ho una sola e neanche quella che nomine te perché una è molto economica costa euro e 42 euro a seconda se ne compri i stock da 6 10 12 o singolarmente fatto che ce n'è per esempio una da due euro però arriverà chissà quando poi per sai che amazon è in filgardo giuseppe per cui se ne compro uno da due mi ci mettono pure le spese di spedizione a meno che non supero i 35 euro alla fine per comprare una penna devo spendere 35 euro una penna da due euro poi trappare quindi aiuta il canale pensaci tu però ti prometto siccome non è che sono nulla facente che se dovessi fare prossimamente un ordine magari questa da due euro la metto lì e la provo nel frattempo però proviamo qualche alta schneider che secondo me invece vale la pena allora siccome stai commentando un video che è stato pubblicato diciamo almeno due anni fa chiaramente in due anni le cose sono cambiate e allora e allora ben vengano anche altri tipi modelli e tra parentesi c'è un video comunque d'archivio che le recensisce un po' tutte nel nel suo nel suo genere io vedo che spesso mi parli di questa ma in realtà ne avevamo già parlato in passato quindi una delle funzioni meno viste sui canali youtube è l'archivio che è home vai su home c'è video shot che sono dei video molto brevi di 30 secondi un minuto ma nel reparto video voi fate una ricerca sia all'interno quindi del canale quindi non vi mostrerà l'intero panorama delle penne youtube trovate immediatamente quello che cercate trovate la parola chiave può essere penna sfera può essere schneider il marchio eccetera 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 e troverete veramente tante tante sorprese perché dico questo perché i video pubblicati sono sul canale sono oltre mille tra parentesi sul ciclo psicografico romano a canali gemellati che ne hanno altre tanti tra parentesi sul ciclo psicografico romano ha anche la confraternita pennofili italiani che proprio nasce proprio come canale di supporto sia per evitare gli agaraggi sia per darci più libertà perché poi lì possiamo pubblicare anche altri video che non siano solo quelli che trattano i pennini flessibili le carte le penne che sono notoriamente i video dove prendiamo un minor numero d'ascolto ma chi se ne frega a noi comunque i video li facciamo perché ci piace farli quindi anche su argomenti che magari sono un po' più di nicchia che in realtà sono importantissimi perché quando si parla di inchiosi e non solo le stilografiche ti rendi conto non è solo il fusto della penna che fa la differenza ma anche il pennino che monta ed è importante c'è differenza tra un numero sei un numero otto un cinque non solo la flessibilità ma tante tante altre cose questo io non vi voglio annoriare andiamole a vedere proprio sul campo a vedere di che cosa sono capaci queste nostre penne quindi Schneider e quant'altro grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille quando più di due anni fa siamo andati a fare un po' a trattare le penne ne abbiamo un po' prese veramente un po' di tutte per provarle soprattutto cercamo le migliori in quel settore lì questa è l'ultima che ci è arrivata in dono ringrazio la Sicilia per avermi la mandata ma stai facendo proprio i video a Personam e a Personam quest'altra pure la G2 Pilot l'avevamo provata ma oggi parliamo in particolare della Schneider come marchio avevamo detto la Uniball ma l'avevamo trattata io vedo qui pure la carandasce quella ecologica ce n'erano veramente tanto quelle che vanno di moda nel periodo con lo spruzzino per pulirsi le mani e disinfettarle ne avevamo viste di tutti i colori le Muji Muji carine perché si potevano chiaramente personalizzare con il pennino, il gel, il colore il colore del fusto, il colore del refill di tutto e di più avevamo prese così tante che alla fine le friction, quelle che usano i ragazzini a scuola queste qua, queste meravigliose anche queste di tutte un po' ma eravamo rimasti poi affascinati vabbè questa è una classica Faber-Castell guarda veramente ne ha rimasti affascinati da un paio con le quali ci eravamo veramente trovati più che bene più che bene avevamo parlato di tutte le penne di tutte le penne quelle pubblicitati che si trovano scolastiche non scolastiche ma insomma ridendo e scherzando le nostre penne si erano date da fare quindi ne vedete alcune fra le più non sono note perché è relativo ma soprattutto fra quelle che avevano vinto i premi non questa che va bene allora in attesa che ci arrivi sicuramente la penna che hai citato tu due modelli una economica e una che costa un pochino di più ma neanche tanto della Schneider avevamo provato questa qua mi ero dedicato in particolare sto scrivendo con una carta anche questa sponsorizzata perché Tomo River quindi una penna una carta giapponese particolare ma creata da un artigiano Claudio Barzocchi che ci ha fornito il materiale e che ci aiuta a farci capire quali siano poi gli strumenti di scrittura più adatti per le nostre esigenze ma non esiste una penna la migliore in assoluto esiste la miglior penna per quello che noi andiamo a cercare allora questa Schneider particolare è veramente di una scorrevolezza eccezionale e nasce per i documenti perché la mia esigenza per esempio è quella di avere un inchiostro indelebile che se ci cade una goccia d'acqua non debba succedere che si cancella e questa questo tipo di di situazione è in grado di affrontarla qui abbiamo una uniball vision elite e mi ricordo che pure questa ci aveva dato qualcosa ma il tratto è un pochino più effervescente un tratto più erto guardate la differenza no e quindi eccezionale per chi ha bisogno di questo tipo di tratto una scorrevolezza ancora maggiore ma non andava bene per i miei gusti che andavo in cerca di di un tratto fine e quindi alla fine ridendo scherzando no vedi anche questa bellissima eccezionale penne che sono state due anni vedete nel cassetto le apro e continuo a scrivere però anche questa bella tutto è però il tratto è e io in quell'epoca andavo a cercare ma se tu Giuseppe invece unibolai higher vediamo questa dovrebbe avere addirittura maggior anche questa un tratto ancora no quasi un brod per essere una penna ma io cercavo e qui mi sembra che l'avevo trovata anche questo è uno 0.4 guardate che tipo di e questa era quella che pure questa se la batteva bene ed era stata premiata questa qui me lo ricordo era una pilot una gtech chi cerca il pennino extra fine e qui l'accidenti l'hai trovato l'hai trovato guarda qui che scrive pur mantenendo un tipo di scrittura scorrevole e qui non si parla di calligrafia quindi queste due per me già ne avevo presa addirittura più di un di un esemplare qui abbiamo una Energel quindi anche questa un pennino gel è bellissima questa penna pure questa è una bella penna ma per le mie esigenze di allora io cercavo una penna sì scorrevole ma fine e l'avevo individuata in questa e nella e anche in questa qui che era la prima quindi alla fine di tutta questa grande guerra io dico Schneider sì però ricordati Giuseppe per me la One Hybrid N è veramente eccezionale e poi anche quest'altro quest'altro modello di Pilot la G-Tech è ottima poi ognuno ha la sua ognuno ha la sua preferenza dice devo scrivere un diario magari non ti interessa quel tipo di penna qui era un punto uno allora una power tank uni pure questa questa diciamo che è una via di mezzo quindi il tratto rimane scorrevole fine comunque qui sembra quasi questa è un po' cicciotta per chi ha le mani piccole magari forse si trova in difficoltà però c'ha un suo perché non posso dire che ha un'impugnatura ergonomica ma ha veramente una signora impugnatura se non amate perché questa per esempio è già smilza nell'impugnatura ancora però molto leggera sono tutte di plastica questa che era la famosa friction e queste le usano nelle scuole se avete una bella penna rossa da maestro da insegnante da professore anche se ve la perdete non succede niente quindi queste due erano quelle che secondo me andavano bene tenendo conto che anche questa terza ha una sua veramente scorrevole ce ne sono altre ce ne sono tantissime e in questi due anni veramente avevo provato anche queste queste hanno dei colori sono carine sono belle queste sono belle proprio come penna da diario di tutti i colori che volete questa è una delle penne verdi blu nere particolari particolari marrone seppia ognuna c'ha la sua ognuna c'ha la sua stavo vedendo ne avevo prese più di una e Sara sa mamma mia penne per me i diari dei vostri i vostri diari soprattutto femminucci ragazzini eh ma mamma mia sono romanti io le definisco ecco penne romantiche sappiate che lì fuori non ci sono solo le stilografiche ma ci sono anche le penne e viceversa perché in realtà il maggior numero di appassionati di stilografiche non so perché ma ah le penne le penne ma in realtà il numero maggiore delle persone che scrivono poi in realtà scrivono con le penne non con le stilografiche con le penne a sfera con le penne a come posso dire a gel i roller qualcuno ha incominciato a usare i primi passi li fa con le penne a stilografiche usa e getta e allora queste le v pen della pilot pure queste entrate in questo mondo ecco questa è una penna io consiglio a una stilografica consiglio a tutti quelli che amano le penne ma hanno paura un po' paura della stilografica questa no questa è proprio come la vostra scrive magnificamente vedete anche questa sono due anni che non scriveva non sto scherzando dice no tu stai scherzando no no questa una volta che l'hai finita la prendi e la butti però te c'è appassione se prendi questa do un po' ma tu una pilot nel mercatino ti vai a comprare una una troverai delle penne così questa è un Omas un Omas non è scolastico è d'ufficio questa qua no una Omas che costano pure poco in questi mercatini dell'usato no pochi euro della ti renderai conto che la potrai ricaricare ogni volta o avrai un converter oppure avrai la tua cartuccia vedi questa è praticamente esaurita continua a scrivere perché ancora un po' di inchiostro nel condotto ma questa con una siringa stilografica una siringa da insulina quella che ti ha aspirerà l'inchiostro dal tuo calamaglio ti comprerai un calamaglio il primo magari sarà un pelican quello che troverai in cartoleria e poi e poi a voglia a voglia ce ne sono di molti economici intorno ai 4 euro questi qua i damiani questi sono belli grossi no ci avranno te lo carichi ci sono tanti video tutorial che ti fanno vedere come ricaricare le cartucce sul nostro canale ne trovi veramente tanti e troverai tutto un mondo ti comincerai a impastrocchiare vedete io come ho usato una stilografica vinta te impastrocchi e dici perché non le usi è perché te impasta sempre a pulire c'è un video su come pulirsi rapidamente senza farsi male queste benedette penne giusè io questa te la consiglio questa qua ma costa un po' di più rispetto vabbè tu vedi tu quello che puoi fare uso sei un dottore sei un notario sei un avvocato sei uno precisino e questa questa è veramente per documenti c'è scritto ma provala una pilot g tech questa è barra c è fatta apposta eh io questa mi ci trovo molto bene che altro dire proponete voi qualcosa sono sicuro che troviamo quello che che fa per voi ognuno dice a me mi piace più questa rossa col tratto forte questa guarda ce ne sono lì fuori c'è un mondo pieno e io vi dico che nei prossimi video una per una le andiamo a provare tutte non solo queste ma anche tante altre sia quelle abbiamo provato quelle di supermercati proprio quelle capito da pochi euro quelle importanti abbiamo una bella Aurora Roller no? con la sua scatola importante costa un sacco dei soldi proveremo pure quella ve la faremo vedere un bacione alla prossima grazie a tutti